Cari telespettatori, buonasera, Irina Cirdea per voi, siamo in onda su Iris Press TV, lezioni di stile e oggi ce l'abbiamo un grande invitato direttamente dalla Romania, Transilvania Consela di Monaco, benvenuta direttamente da Romania per Milano Fashion Week 2019, a breve finirà la nostra famosa settimana della moda, però non potevano mancare le nostre lezioni così come abbiamo sempre abituato e non solo, domani ci saranno delle novità Conselo, cosa ci racconti? Sì, praticamente tramite Antena Star, che è una delle televisioni più moderne dei veri star, ho una intervista, se vi volete seguire in diretta dalle 14 e 15, dove parliamo del nuovo mio titolo di Duchessa e del mio incarico, perché Duchessa richiede anche dei incarichi, cioè fare delle cose bellissime per voi, occuparmi delle donne, innanzitutto dei bambini, delle persone bisognose Bravissima, Consuelo, ci fa onore innanzitutto la tua presenza oggi qui con noi, ma anche per tutta la tua attività fino adesso e anche seguirà, perché ci saranno dei progetti molto importanti anche qui a Milano con noi, innanzitutto la grande apertura qui nella nostra famosa location Dubai by Music qui a Milano, proprio in centro e in corso Buenos Aires, dove le nostre lezioni di stile con Consuela di Monaco e Irina Tirdea saranno sempre accanto a voi siccome Consuelo mi ha fatto l'onore di farvi anche da testimonial per il nostro marchio Iris, d'ora in poi, saranno veramente delle cose interessanti, ci occupiamo dello stile innanzitutto, di bonton, di tendenze, di tutto quello che è bello, vero Consuelo? Grazie, grazie di avermi invitata, sicuramente io e la Irina abbiamo una sensibilità verso le donne e vogliamo che tutte le donne sono bellissime, vestite come si deve praticamente lo stile è la ricetta del successo, la bellezza è la nostra arma più potente e noi siamo qua per voi, per aiutarvi, per consigliarvi di trovarvi il vostro stile, così come l'avevamo sempre detto Siccome ho detto prima che noi amiamo le donne, vogliamo che tutte le donne sono bellissime, tutte le donne sono elegantissime, tutte le donne hanno il giusto buon ton, il giusto stile in tutte le occasioni, siamo qua per darvi una mano Almeno di potervi condividere quello che per noi è diventato una professione, non solo un hobby e vi vogliamo condividere almeno un po' della nostra ricchezza, chiamiamola così, della nostra ricchezza Quindi state qui con noi, Dubai by Music, Iris Press TV, Irina Tirdea per voi e Consuela di Monaco Grazie a tutti